Avvicinare i bambini delle scuole pesaresi al fascino della sala cinematografica. Va in questa direzione il progetto Move the Movie che dopo l'esperimento della prima edizione torna da lunedì 16 ottobre al Cinema Solaris dove si terrà fino a fine aprile con proiezioni mattutine in orario scolastico. Anche quest'anno ci ripresentiamo a Pesaro, a tutte le scuole elementari e alle secondarie di primo grado. È stato un bellissimo evento l'anno scorso, nato a quattro mani con quattro cinema italiani che ha vinto l'Europe Innovation. Quindi avevamo vinto questo concorso e lo avevamo presentato insieme a quattro cinema del Piemonte. Quest'anno invece ci proponiamo da soli, lo facciamo in maniera separata anche se lo stiamo facendo tutti e quattro in maniera parallela. Quindi ognuno di noi ha i suoi film, ognuno di noi presenta la sua città e devo dire che c'è già stata una grandissima risposta da parte delle elementari. C'è la prima media che si è entrata, la Manzoni e tanti elementari che si stanno segnando mano a mano perché vogliono venire a vedere questi film e vogliono fare questo percorso formativo per entrare al cinema. Quindi veramente una bella esperienza. Il progetto patrocinato dal Comune e supportato dal quartiere 12 Pantano proporrà 12 titoli fra film e animazioni da scegliere a seconda del mese e della fascia d'età degli alunni. Ogni visione sarà corredata da un dibattito curato da esperti del settore e ad ogni alunno verrà chiesto di realizzare un disegno su ciò che li ha colpiti. Niuscirà un collage di elaborati grafici che diventeranno parte di un'installazione dell'artista Riccardo Venturi inserita nel palinsesto di Pesaro 2024. Quest'anno lo ripetiamo perché portare i bambini al cinema, insegnargli cosa vuol dire il percorso del cinema e che ci sono tanti lavori per loro nel futuro è bellissimo, poi vedere la loro risposta è sempre una gioia. Grazie a tutti.